Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi presentiamo un prodotto dell'azienda ProPort, si tratta del Turbo Charge 7000, ovvero una batteria di emergenza o supplementare che dir si voglia, capace di ricaricare tantissime tipologie di device. In passato avevamo già recensito il modello 5000, questo nuovo modello il 7000 è una batteria da 7000 mAh, quindi una capacità ancora maggiore. Adesso vediamo un po' cosa c'è all'interno della confezione e quindi vediamo un po' com'è funziona. All'interno della confezione troviamo la batteria da 7000 mAh, rivestita di uno strato gommato molto piacevole, molto tascabile, forse un pochino più grande rispetto al modello 5000, però ripeto qui abbiamo una capacità da 7000 mAh, in ogni caso tranquillamente trasportabile. 7000 mAh significa che se voi avete un cellulare da 1000 mAh come batteria, questo dispositivo una volta carico a massa sarà capace di ricaricare da 0 a 100 mAh ben 7 volte. Abbiamo anche un sacchetto, un marchetto pro porta con all'interno tutti i cavetti necessari per ricaricare i dispositivi di nostro interesse. Inoltre vedete come abbiamo anche ben due cavi retraibili molto molto comodi. Come funziona? Allora vedete come abbiamo tre porte da questo lato, quella IN in pratica serve per ricaricare la batteria stessa, ovviamente la colleghiamo ad esempio ad un pc, abbiamo questo piccolo interruttore che ci fa capire come attualmente abbiamo una sola tacca di batteria, ovviamente caricarla al massimo richiederà alcune ore. Poi abbiamo due porte USB standard, una low e una high, quella low è destinata per caricare tutti quei dispositivi che hanno bisogno di poca potenza, quindi smartphone, lettori multimediali, GPS, lettori MP3 e quant'altro e abbiamo quella high invece destinata a dispositivi che hanno bisogno di maggior potenza come ad esempio i tablet. Infatti questo turbocharger è certificato per riuscire a caricare anche un iPad però noi abbiamo testato anche il Motorola Zoom 2 e funziona tranquillamente. Adesso facciamo una piccola prova con il nostro Galaxy Nexus, allora prendiamo il cavo retraibile, scegliamo il cavetto giusto, ossia la porta, scusate il cavetto micro USB, inseriamo il cavo standard sulla porta low, accendiamo il pro porta, e colleghiamo al Nexus. Vedete come il Nexus rileva che la batteria è praticamente in carica. Un attimo... vedete? Stato batteria in carica. Ovviamente la capacità di questo turbocharger di ricaricare il device è anche molto veloce quindi non è che ci metta tanto tempo per appunto caricare i vostri device ma soprattutto la particolarità di poter di poterne caricare ben due contemporaneamente, una sulla porta low e una sulla porta high. Insomma questo era il turbocharger 7000 se voi avete necessità di caricare i vostri dispositivi mentre siete in giro questo prodotto potrebbe farlo per voi, soprattutto se avete bisogno di tanta potenza o meglio se avete oltre che lo smartphone ad esempio anche un tablet o comunque generalmente vi portare dietro più dispositivi, magari può essere una console con un lettore multimediale mp3 o gps via dicendo. Appunto questo turbocharger 7000 è sicuramente un prodotto super consigliabile. E con questo è tutto, prima andiamo alla prossima, un saluto da Matteo di Android Geek. Grazie a tutti!